è troppo buio no no devi dire ciao mamma ciao mamma guarda qua però fammi vedere chi alza la mano? io! quanti dici sono qui? poi andrea eh? dici dieci quante palline hai? due sole credevo quattro io no? due o quattro? grazie! ah c'era quattro ci appensiamo bene mamma 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 grazie! 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 grazie!